Musica Maestro infissa Con questo gesto Sembra un piccolo gesto Ma in realtà è un gesto che muove tanto Porca miseria, veramente Un piccolo gesto per l'uomo Per l'uomo Un grande gesto per l'umanità E soprattutto per Perfette Sconosciute Bentrovati amici, grazie Mi piace quando finisce Ci metto un po' a finire però Eccoci qua, grazie amici Siamo tornati A me sta cosa ogni volta che parte mi sembra In excess Però pensa non è in excess Altrimenti dovremmo dargli un sacco di soldi Che noi non ci possiamo permettere in questo momento Però pensa che potremmo permetterceli Forse un giorno Certo, vi basterebbe per esempio Fare i bravi quando venite su questo canale Non soltanto iscrivendovi Non soltanto Spingendo lo spingino Che vi consente di avere tutte le ricevute Tutte le notifiche Ovviamente ogni qualvolta un nuovo video venga pubblicato Ma potreste anche diventare fan attivi attraverso Patreon Che è una comunità che sta cercando di svilupparsi E diventare sempre più ampia per quanto riguarda questo canale Patreon è già bello ampio di suo E con dei piccolissimi abbonamenti Dove il massimo che potete spendere Per avere proprio tutto sbloccato E ricompense sbloccate Sono 4 euro mensili Quattro caffè Ma a me dico E a lei Ma non ce li volete offrire Ma non ce li volete offrire Quattro caffè Quattro caffè Ma no tutti insieme Nello stesso momento Allora mi fai Quattro caffè Di cui uno macchiato Uno schiumato Un altro macchiato freddo No Un arbetro Certo però io un caffè Adesso mi berrei Arbetro come lo vorresti? Eh lo vorrei Non lo so Con la panna Con la panna Hai visto che I poveri baristi Per non impazzire Devono mettere Un posizionamento Del cucchiaino Hai visto che ti mettono subito Il sottotazzina Con il cucchiaino A seconda della posizione Del cucchiaino Loro sanno Si ricordano Se è macchiato Schiumato Macchiato freddo Macchiato caldo Arbetro Eccetera Are you kidding me? No è quello Loro sopravvivono Loro sopravvivono Grazie a questo No io non ci credo Certo è chiaro No ma questa è una stupidaggine Facci caso È una bagianata Ovviamente potete Hai mai fatto il barman? L'ho visto È palese Ma che vuol dire è palese? Tutto il mondo è palese No ma non ci credo Ma sul serio Te lo giuro Amici Ma perché mi hai fatto impazzire Su questa cosa? Adesso c'è tipo Inception Il mio cervello non ce la fa È vero È un momento meraviglioso Grazie Che bello avere Gianna qui Perché con lei Io posso sfogarmi E fare Inception Ok Vi ho già detto Che il 2 di novembre In occasione Proprio dell'anniversario Del 2 novembre Chi saremo noi? Faremo una puntata Ton Un Puntata Ton Perfetto e sconosciuto Ton E comunque reggaeton No reggaeton no Ton Però qualcosa di speciale Ton Sicuramente Ton Adoro Ton Io voglio dire Ton sempre Ma certo Enrico Ton Jane Ton Ma è chiaro Ground control to Major Ton Allora amici Oggi Siamo qui Riuniti No Allora A parte Patreon A parte Patreon Ma c'è pure Paypal Con cui potete anche sganciare direttamente Più soldi La fraccata Proprio direttamente la fraccata C'è l'opzione fraccata Noi siamo qui quest'oggi Per commentare un brano Del bresciano Fraquintale Che si chiama Fraquintale Come fra Come Come si De Velletri Certo Sapete che Ma secondo voi perché si chiama Fraquintale? Ah pensavo perché Quello dei Velletri Che lo sai che Quello dei Allora Noi storpiamo un po' C'è un modo di dire no Eh È un po' Sulla linea Del lo sai che ti saluta tanto no Eh Che normalmente Che non è Basile ci ha fatto una carriera Sì esatto Esatto Sicuramente ci ha fatto un grande fratello Basile ci ha fatto un grande fratello Sicuramente un grande fratello Ciao Fabio Grande Fabietto Allora Eh Si dice Eh oh se Vabbè È arrivato È arrivato Fra Cazzo da Velletri Eh beh L'abbiamo detto Scusate È un modo di dire È un modo di dire Si dice tanto a Roma E L'umanità si è chiesta Così come Per Come distinguere un caffè da un altro Per il povero barista Che se deve ricordare Quindi posiziona Posiziona il cucchiaino In una posizione particolare È un angolo particolare Tu guarda Se lo mette così Se lo mette Poi non so qual è il codice Però È veramente tipo Oh che è questo Dopo scendiamo al bar Te lo faccio vedere Voglio chiedo a Daniele Daniele Sì pronto a rispondere a questa domanda Daniele rispondi Di percorsia Prima che scapoccia Tra un po' Dopo ti porto giù al bar E Ah ti faccio vedere io Allora Dicevo Che dicevo Ah fracazzo da Velletri Fracazzo da Velletri È un modo romano Avevo la patta aperta Ma non è perché abbiamo fatto Delle cose Indecorose Indecorose No No Parlando di fracazzo Esatto Oh E poi di Velletri Si dice così Ma in realtà Questo Sborone Sborone Era fra Frate Cassio da Velletri Ah Personaggio realmente esistito Ah So you didn't know I did not know Eh no you know E so due cose E so due Che tu volessi dire La borra Giusto 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 Gianna Fa schiuma Ma non è un sapone Fa schiuma Ma non è un sapone Che cos'è La borra La borra Aveva appena Riabbottonato Aveva appena riabbottonato La patta Gianna Cioè Ma non mi far dire Queste cose Santo cielo Bene Tutto per questa Grazie Grazie mille Grazie soprattutto Grazie a Jane Motherfucking Alexander No no I got I got No Kleenex No Non ce l'ha ragazzi No vabbè Sentiamo sta canzone Come si chiama Si chiama La farmacia Che è un luogo Dove puoi trovare Dei contenitori Per la borra Sì ma anche i Kleenex È anche qualcosa Che mi serve a me Per sta zitta No no Nel senso Allora L'hai detto a me In una maniera un po' particolare Che ha rischiato di essere equivoca Ha rischiato di essere equivoca Gianna Tutto a posto Non è che noi ti diciamo Vienici a prendere dopo Che abbiamo finito le registrazioni Per dei motivi in particolare Cioè devi stare sereno È tutto sotto controllo Allora la canzone Di Fra Quintale Bresciano Cantante pop italiano Pop Uscita venerdì Si intitola Farmacia Farmacia Io direi Direi È ora di ascoltarla Non sono esperto Né in amore Né in cardiologia Ma ti ho incrociato Scusami Farida Perché chiaramente Non gli poteva entrare Con Ia La rima Con cane Antidroga Esatto Perché il tuo profumo È come l'erba Per il cane Antidroga Esatto Però ammesso Se vuoi trattarmi Come un cane L'ammesso dopo Non farò la spia Basta Questo è il fine Grazie Questo è il massimo Che posso elaborare Per oggi Ma c'è anche un ritornello Questa canzone Oppure continui a fare A me piace Ti piace Ti fa stare bene La tua farmacia Fra quintale Possiamo dire Che è la tua nuova farmacia Potrebbe Mi piace Potrebbe Vediamo Potrebbe Questo concetto Che Però posso dire Un attimo Giusto al volo Questo concetto Che le persone Ti debbano curare Ma ogni tanto C'è due persone Che stanno bene Perché stanno bene Tutte e due No Per forza Tu devi essere A farmacia Perché sto male Allora tu mi curi No È sbagliato No Sono d'accordo con te Potremmo aprire Un lungo discorso Certo Però lui dice Che un'emorragia È la famosa Emorragia d'amore La borra Si può definire Un'emorragia di amore Stringo un bicchiere Nel palmo Metà per me Metà lo beve l'asfalto Mischiare il sesso L'amore È un po' come Mischiare l'alcol Ad un farmaco Io non volevo Star solo stasera Quindi mi sono aperto In due Ora ti penserò Il doppio Se chiamo il tuo numero Risponde il cento di ciò Cioè diciamo che il messaggio È sempre molto buono Nei giovani di oggi Mazzà Sì Cioè diciamo Un abuso di farmaci Questo mi sembra Abbastanza normale Molti riferimenti Comunque a un mondo Medicato Sì Se vogliamo dire La lingua Medicated Sì Quindi alcol Droghe Farmaci E mi sono aperto In due A me non dispiace Però io non volevo Star solo stasera Quindi mi sono aperto In due Non sarà stato il primo Ad usarlo Ma mi piace come concetto Ma dove sono finiti Quindi non volevo stare solo Stasera Quindi ho messo Pornhub Cioè dove sono finiti Romantici di una volta Ho esagerato un po' Qualcuno venga a prendermi Pensavo fosse amore Invece sono sappi e mobili Tu mi fai stare come non sono stato mai Lo sai Che quando te ne vai via Serve un'anestesia Perché mi fai stare bene Perché mi fai stare bene Stai lo mio Far macchie Perché mi fai stare bene Stai lo mio Far macchie Mi piace il salto Mi ricorda tante cose Belle Che ti mette all'anestesia Che ti mette all'egressa Ti mette le voglia di ballare Sì sì C'è un ballo Ho ballato per quasi tutto il tempo Allora Vuoi iniziare tu Nella profonda Vogliamo andare direttamente Guarda io Lo sai che faccio Ma chiamami Ponzio Pilato Guarda veramente I voti di Jane Alexander Allora Fra Quintale Che si chiama Fra con l'H E non l'avevo ancora visto Sì Fra Bella Fra Lui si chiama Francesco in realtà Però Bella Fra Perché come ci sa Jessica con l'H Deborah con l'H C'è Francesco con l'H Ok Ok E la devi mettere tra la e Cesco N No Encesco 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 Ok Caro Fra Quintale A me questa canzone è piaciuta Mi ricorda Mi ha dato Quelle sensazioni Che mi dà tipo Figli delle stelle Di Alan Sorrenti Cioè quella roba Di cantare felice Gli amici Nonostante il fatto Che il testo È tutto tranne Che cantare felice Con gli amici No il testo di uno impicciato Il testo di uno Assai impicciato Ma la musica sotto A me fa felice Ehm Ti piace questo contrasto Mi piace questo contrasto Mi dispiace che stai male Ehm Non ho capito Il pezzo No sì Il pezzo Esagerato un po' Qualcuno venga a prendermi Vess Pfff Ehm Non Quello forse è il pezzo Che mi piace di meno Di tutta la canzone Anche proprio musicalmente Anche tutto Capisco che devi avere Un down Un stop Un how do you call it In jago Break Thank you Breakdown Breakdown Però non Pfff I don't know Ehm Per questo motivo Per questo motivo Ti conferirò Ti conferirò Un Un 9 e mezzo Guarda No 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 Quelle cose le fa solo per Aiello Ti conferirò Ti conferirò Un 7 e 37 A 7 Sì Non mi spingerei fino al 7 e 40 Fossi in te Sì Ma non è un 7 e 35 Assolutamente no È un 7 e 37 Mi raccomando puntuale Sì Non Penso che 7 e 37 Sia un voto Che si addice A questa canzone Anche se ci sono delle cose Che boh Se chiama il tuo numero Risponde il 118 Non Non l'ho capito Ma forse sono io Che non ho capito Ora ti penserò Il doppio Se chiama il tuo numero Risponde il 118 Fa rima con doppio? No Perché 8 Non fa rima con doppio 8 fa rima con passerotto Come ce l'ha insegnato Greg e Lillo Però ecco Ora ti penserò Il doppio Perché lui si è aperto In due Certo E quindi penserà il doppio Perché so due Ah no Allora aspetta Qui siamo sempre Nella metafora della farmacia Se lei è la sua farmacia Ad è normalmente Quando lui sta al normale Adesso che si è aperto in due Lei Chiamare lei È come chiama il 118 Perché mi sono aperto in due Quindi mi serve proprio Un intervento molto Che ci faccio con la farmacia Mi serve il 118 Quanto sei profondo Enrico Silvestri Fra quinta Però mi fai sudà così Io te lo dico Eh ho capito Però hai capito Sei stato bravo Spero eh Spero Hai capito meglio di me Spero Comunque Ripeto 737 Puntuale Giusto E preciso Secondo me è così Ma io ti dico Frappiatelo eh Ma Pia dal papo Tra tranquillo Anche col sorriso Da parte a parte Guarda vai proprio Eh Il voto Di Enrico Silvestri Grazie Grazie Jane Grazie Grazie Abbiamo degli applausi veri Come senti Molto belli Scrosci addirittura Di applausi Allora Ho capito Caro Fra Che sei sicuramente impicciato Ho capito Che volevi far la rima Col cane antidroga Ma purtroppo Non la potevi fare E perché avevi Tutta la canzone Inia E non in oga No esatto Tra l'altro Che potevi fare Con oga Se questa canzone Fosse stata in oga Oga Roga Carioga Nessuno se lo arroga Nessuno se lo arroga Poi ci avrei messo Carioga Carioga è bella Però devi essere di Roma Se no non viene Foga Foga Odere di Miniga Però non va bene Perché comunque Saresti uscito Va bene Sarebbe stato più complicato Per il tutto Per metterci il cane antidroga E quindi ho apprezzato Questa cosa Che poi te l'hai rimasta In fissa Sta roba del cane E ce l'hai messa dopo Se vuoi trattarmi come un cane Non farò la spia Alla polizia Detto questo Perché chi fa la spia Non è Non è figlio di Maria Ecco Non hai messo la rima con Maria Questa cosa un po' Mi ha addolorato Detto questo La canzone Si muove molto leggera Come un bibitino Di acqua Qual era Che cosa? Chi fa la spia Non è figlio di Maria Ah e vedi Perché io non padroneggio La sua discografia E quindi non potevo sapere Tu non padroneggi Quando se lo so bevuto Ah ok No ma Però era per motivi di vestiti Di abbigliamento Di vestiario Però lui ha detto che non ha fatto la spia Perché chi fa la spia Non è figlio di Maria Infatti si sono bevuti Quell'altra Quella signora Che stava con lui Allora Dunque Dunque In generale Tutta questa canzone vive Su una enorme metafora Che è una metafora Di per sé Carina Che a me non verrebbe mai in mente Perché non vivo la farmacia Come un bel momento Cioè non lo vivo Come un momento Di gioia Addirittura Che bello Che vado in farmacia E quindi pensa a te Che bello Però Però quando c'hai mal di testa Anche tu sei contento Di prendere un farmaco Sì però lui è felice Di aver il mal di testa Cioè lui dice Io ho tanto mal di testa Tu sei la persona che mi cura Sei la mia farmacia Però A un certo punto È chiaro che questo rapporto Dovrà maturare In una direzione Dove a un certo punto Starei pure bene Esatto Cosa ne sarà di questo rapporto Quando lei non sarà più La tua farmacia Ma sarà il tuo bicchiere d'acqua Sarà il tuo quotidiano Caro fraquintale Ti aspetteremo Facci sapere Quando arriverete A questa fase Della vostra storia Soprattutto fraquintale Io direi Bevi de meno Sì Perché poi Te sfondi Più che altro Se devi bere metà te Metà all'asfalto Te costa troppo Bevi de meno O comunque Compra un'impugnatura Per quello che stai bevendo Perché altrimenti No sul serio Comunque Io lo dico non soltanto a lui Lo dico a tutti i giovani Che ci stanno ascoltando Cioè per favore Non bevete così tanto No soprattutto Perché bere Non c'è bisogno di sfondarsi Ma poi frate Posso dire una cosa Scusa Anche qui tu Mi dai un messaggio Un po' sbagliatino Perché mi viene a dire Che Allora si sa Mischiare l'alcol A un farmaco È proprio È l'autostrada Per coma Cioè è proprio Una cosa che non va bene In linea di massima E tu Però lo paragoni A che cosa A mischiare sesso e amore Che invece è una cosa bella Ok Perché se Veditti ci ha insegnato Che non c'è sesso Senza amore C'è sesso Con l'amore E tutti agognano Il sesso Con l'amore Se questa cosa Tutti agognano C'è anche gente Non gli può fregare di meno De far sesso con l'amore Dipende Vabbè ho capito Però in linea di massima Se tu c'hai entrambe le cose Si dice È più meglio È più meglio Se tu me lo vieni a paragonare A mischiare L'alcol ad un farmaco Ma a me Ma non ce l'hai Metafora Ma quanti anni ha Fra Quintale Ma è giovane Fra Quintale Stanno tutti impicciati Questi più giovani Sopri stanno impicciati No perché penso che mischiare L'alcol con il farmaco È quella roba lì Tipo oh mischiamo l'alcol Col farmaco Così sbagliamo di più Che potrebbe essere Quindi il sesso e amore È sballare di più Certo Quindi lo vede come una cosa negativa No che negativa No 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 È come mischiare l'alcol farmaco Nel senso che ti prende Una botta pazzesca È l'esempio che trovo sbagliato Cioè fammi altri esempi Di roba pazzesca Però è chiaro che tu sei Dentro una metafora E in questa metafora Tu ti sei voluto muovere Come un 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 cormorano Diciamo Però In generale Tu Madre De Fra Ammi il cormorano Non lo so Cormorano è un Tipo un grosso gabbiano Sì Credo che sia un predatore Anche del gabbiano stesso Eccolo qualcosa Quello è il pellicano Potevamo fare una canzone Cormorano gabbiano pellicano No ma veramente Fra Quintale Facci la canzone Quella lì In cui Non lo so Che si chiamerà Bicchiere d'acqua Come hai detto Si chiamerà Sto bene Sì E facci sapere Come funziona No perché io chiedo a te Madre Jane Ma te Madre di Fra Quintale O manderesti in giro da solo La sera Adesso che ho letto la canzone Ma Eh Andiamo fra Scusami Pure te Allora io vi dico Per uscire anche Da questo piccolo ghetto Del giovanilismo Perché è vero che siete giovani Ma la musica è una roba Che non serve solo ai giovani Se tu oggi ti riascolti Delle canzoni del passato Di grandi artisti italiani È proprio perché Non facevano le canzoni Per un pubblico giovane Non è che Rino Gaetano Faceva le canzoni Soltanto per ventenni Perché lui aveva vent'anni O trentenni Se c'è arrivato a trenta Rino Gaetano Tra l'altro Ma Chiaramente no Faceva delle canzoni Eterne Cioè Dalla o tanti altri Ma anche i più scansonati Ben nato per dirti Non è che faceva le canzoni Su Che ne so Eh Anche lui Metafore Figure di favole Addirittura No Però non è che ti faceva Peter Pan E sperava di parlare I bambini No assolutamente Era un linguaggio universale Era un enorme metafora Cittazione eccetera Ma c'era dietro Un'indicazione Per uno stile di vita C'erano delle indicazioni Dei consigli Per la tua vita Per la tua esistenza Ora Caro Fraquintale A me non mi dai Dei grossi consigli A me non me li stai dando Personalmente Sì ma lui non li vuole Manco dare a te Cioè lui vuole parlare Con un pubblico Al quale dici Ho esagerato un po' Qualcuno venne a prendermi E questi pensano Tu sei figo Perché ti sei sfondato E qualcuno ti è dovuto Venire a prendere Perché c'è una storia da raccontare È una roba di una tristezza Unica Amici giovani Aiutatevi a crescere Sì insieme Anche tematicamente Aiutatevi ad elevarvi A crescere Ok Perché qui siamo Proprio alla semplificazione Anche le stesse rime Cardiologia Emorragia Polizia Spia Farmacia Mi va tutto bene Sì però musicalmente Che mi dici A te non ti dà felicità Ma oddio Felicità è un'altra cosa È un pezzo molto leggero Chiaramente è un pezzo Che non Di cui mi sarò Totalmente scordato Nel giro di breve Forse Io me lo sono già Dito Esatto Cioè Quello me lo ricordo Però È È acqua fresca Ok Sì ma è acqua fresca Allegra C'è anche acqua fresca Di merda No va benissimo Ma infatti molte persone Ricercano Nella musica Oggi Quel Non pensare Ma siccome sono tante Non sono d'accordo Non è che io ricerco Il non pensare A me se mi fai sentire Una musichetta Che mi fa ballare Sulla sedia Io sono contenta Perfetto Che poi sia acqua fresca Ok Però è sempre una musichetta Che mi ha fatto ballare Sulla sedia Certo È la differenza tra Una canzone E una canzoncina Quella di Fra Quintale E una buona canzoncina Certo 7,37 7,37 Per una canzoncina Secondo me è molto alto Io infatti non arriverò A cotanto voto Poi sai che a me Non piacciono I decimali Cioè non mi piace Sparigliare come fai tu Io dico che questa È una canzone Da 6 più Perché È un compitino Con un groove Carino Ma sempre Comunque parliamo di cose Sentite Strasentite Non c'è un elemento Non c'è mezzo elemento Di novità Nella tua canzone Fra Quintale Manco se lo cerco Con una lente Di ingrandimento Grossa così È semplicemente Un qualcosa È un compito Di un qualcosa Fatto E rifatto Cento volte prima Con metafore Più o meno Carine e originali Ma secondo me Limitanti Perché per esempio A me non mi arriva L'unica cosa che mi arriva È che siete una generazione De gente Che si sfonda E state State occhio Con questa cosa Secondo me Soprattutto se continuate A veicolarvi Questo messaggio Che sia tranquillo Sfondarsi Per il resto Boh Ritenta Ci rivediamo Quando sarei diventato maturo Che ero fra Quintale Ciao No che ciao così E salutiamo anche Il nostro pubblico Stavo salutando Fra Quintale Ciao Fra Quintale Sì Fra Ci rivediamo veramente più avanti Spero che tu Possa crescere presto Spero che tu non diventa Tipo Coez Che è un altro Che c'ha N'età E continua a cantare cose Per adolescenti Non lo so Io non Credo Non se la sento No No a me questa cosa Mi resta proprio Mi resta C'ha ragione È un buon consiglio Gli stai dando Stai dando un buon consiglio Se gli va Poi magari non gli frega niente Non gli frega niente Ma a voi vi va Di mettere un like A questo video Ma a voi vi va Di iscrivervi A questo canale A voi vi va di Spingere lo spingino Andiamo su E allora Poi potete anche contribuire Tasta il tastino Pussa il pussino Tasti Push up Eccetera Poi fare un po' Quello che ti pare Soprattutto amici Potete anche diventare Parte di questa community Attraverso Patreon Con una minima donazione mensile Veramente niente Il nulla Pensate che quella più economica Veramente è tipo Un euro al mese Perché ci sono tre piani Da buonamenta ragazzi Ma di che stiamo parlando E poi altrimenti Se siete molto ricchi Miliardari E avete voglia Di regalarci Quella fraccata di soldi Tipo Super Enalotto Fatelo direttamente Attraverso Paypal Fate tutte le cose Che dovete fare Per noi 2 novembre è tutto Alla prossima puntata